secondo inconveniente siccome in cile ma anche in argentina ma soprattutto qui in cile ho visto una numerosità di cani randaggi oggi passando in moto uno di questi cani ha pensato bene di azzannarmi per fortuna è andato tutto bene mi ha solo buccato i pantaloni però il fetentone ci ha dato dentro detto questo sono qui a tal tal da un'oretta circa e mi è già successo una cosa fantastica perché mi sono passate sotto questo ponticciolo quattro fuoche che in realtà sono la in questo momento però fantastico e chi l'avrebbe mai detto in questo posto credetemi dimenticato da dio trovare un hotel è stata un'impresa